Buongiorno, sono un'infermiera che durante il periodo di emergenza Covid ha lavorato presso l'unità di isolamento dell'ospedale di Anzio e fare questo messaggio lo ritengo importante perché la popolazione deve comprendere l'importanza di eseguire il test serologico per la ricerca di anticorpi e anti-SARS-CoV-2 e perché le stime di seroprevalenza sono importanti ai fini della salute pubblica. Quindi invito tutti voi ad eseguire il test come abbiamo già fatto tutti noi operatori sanitari e forze dell'ordine proprio perché in virtù della conoscenza di questa immunità che poi la scienza dice che è parziale, temporanea però comunque è un'immunità che ci dà un dato certo è più facile poi gestire nel caso peggiorno in cui ci fosse una nuova emergenza è più facile avere un'idea diversa sulla salute della popolazione. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.